La pace dei santi sia con voi. Il 28 febbraio la Chiesa celebra la memoria di San Romano di Condat Abate. La Vita Patrum Iurensium, scritta da un suo seguace, ci racconta che Romano per primo ebbe l'idea di isolarsi in prossimità delle foreste Giuria. Per la sua fama il vescovo Ilario di Besançon lo ordinò sacerdote. Con il fratello Lupicino ed altri seguaci Romano fondò un grande monastero a Condat, un secondo a Lucon e un monastero femminile di clausura a Lebouem, di cui fu badessa una loro sorella. Auguri a tutti coloro che portano il nome di San Romano e a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Grazie a tutti.